Aldo Montano dopo l'addio alla casa del grande fratello Vip, si è reso protagonista di una diretta social durante la quale ha parlato della sua esperienza nel reality show ed ha risposto ad alcune domande dei fan. In tanti gli hanno chiesto cosa ne pensasse del caso Alex Belli e la reazione di Aldo non si è fatta attendere, tanto da sparare a zero sul conto dell'attore col quale, in un primo momento, aveva cercato di costruire un buon rapporto di amicizia all'interno della casa di Cinecittà. Successivamente però, dopo l'acceso litigio che ci fu tra i due, il rapporto è andato scemando e con l'inizio della soap che ha visto protagonisti Alex e Soleil, Aldo si è sempre più allontanato dall'attore. Se è tutto finto ed ha inscenato la cosa con sua moglie, è una cosa orribile, ha sbottato Aldo Montano, aggiungendo che se questa fosse la verità dei fatti. Significherebbe che Alex ha soltanto preso in giro il pubblico che segue il GF VIPDA, ma anche i suoi stessi compagni di gioco. Al tempo stesso però, Aldo ha sottolineato che se tutta questa situazione fosse vera sarebbe altrettanto grave, dato che così facendo Alex avrebbe mancato di rispetto sia a sua moglie e sarebbe stato irrispettoso anche con i suoi stessi compagni di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco.